Un sistema di ricatto di donne e ragazze minorenni senza precedenti che ha sconvolto la Corea del Sud. Attraverso gruppi Telegram le ragazze venivano ricattate, spinte a compiere azioni al limite e foto e video venivano condivise in queste chat Telegram per utenti paganti. Venivano chiamate le schiave, un vero incubo online che ha colpito centinaia di vittime. Grazie a utenti online, giornalisti, hacker e polizia, questo inferno è stato fermato. Oggi torniamo di nuovo in Corea del Sud. Sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Siamo di nuovo in Corea del Sud. Lo so che avevo detto che non volevo più sentire parlare della Corea del Sud per questi scandali perché erano veramente atroci dopo le vicende del Burning Sun che vi lascio qui ma su Netflix ho trovato un documentario chiamato Cyber Hell e con un'altra vicenda agghiacciante e voi direte Mali, sei sicura? Sì ragazzi, questo si chiama autolesionismo. Però dobbiamo parlarne perché è stata un'altra vicenda che forse metto al pari più o meno di quella del Burning Sun soprattutto perché gli autori, diciamo, di questa vicenda sono ragazzi molto giovani. Le vittime sono ragazze giovani e soprattutto minorenni anche ragazze delle medie mentre gli autori di questi crimini atroci di ricatti sono dei ragazzi liceali. Quindi è veramente una cosa sconcertante. In sostanza, poi chiaramente vedremo tutte le indagini nel dettaglio per arrivare poi all'arresto, che hanno portato poi, scusate, all'arresto di queste persone per farla breve, in sostanza, queste ragazze venivano spinte a cliccare su un link non cliccate mai signori su un link sconosciuti, ve lo dico perché è pericoloso perché queste ragazze venivano spinte a cliccare su questi link Questi link in realtà rubava, attraverso questi link l'hacker in questione riusciva ad entrare nel telefono o comunque in qualche dispositivo come computer delle vittime, rubava tutti i loro dati, quindi anche indirizzi di casa, carte, tutto quanto e poi diceva loro, questi hacker dicevano se non fai quello che ti dico, mando il tuo indirizzo di casa e tutte le tue informazioni personali a persone poco raccomandabili che ti faranno del male, quindi fai quello che ti dico e queste ragazze venivano ricattate anche, diciamo, spinte purtroppo a fare ad esempio foto intime, foto porno e altre cose umilianti come ad esempio fatti un video mentre lecchi il pavimento di un bagno pubblico inciditi sulla pelle, la parola schiava, perché poi queste venivano chiamate schiave perché chiaramente il ricatto andava avanti, perché io ti rubo i dati ti dico se non mi mandi una tua foto nuda, io mando questi dati in giro quindi la ragazza in questione si faceva la foto nuda, dopodiché chiaramente questi hacker dicevano adesso se non fai quello che ti dico, mando la foto nuda ai tuoi genitori e tutta la tua scuola, dandoti impasto alla vergogna pubblica quindi da lì si instaurava questo sistema continuo di ricatto cioè adesso fai questa cosa e ti giuro che cancello la foto prima quindi magari la ragazza faceva questa cosa, adesso fai quest'altra cosa insomma si creava tutto un circolo di ricatto che andava avanti proprio sulla minaccia della vergogna pubblica, cioè della condivisione di queste foto ma non solo, perché poi in realtà queste foto fatte su ordini appunto sul ricatto venivano poi condivise in dei gruppi telegram di persone paganti cioè le persone pagavano per entrare in questi gruppi e guardare i risultati di questo ricatto, di questa vera e propria schiavitù infatti le ragazze venivano chiamate schiave quindi la vicenda di oggi sarà un'altra vicenda bella pesante perché considerate che coinvolge anche delle minorenne e addirittura delle ragazze che frequentavano le medie quindi è una ricerca pesante, cioè una vicenda molto pesante bene, prima di cominciare ovviamente parliamo di cose positive un attimo per fare un attimo un respiro e prepararci psicologicamente quindi salutiamo lo sponsor del video di oggi Pumpling! Questa settimana su Pumpling 6 magliette a 50 euro non perdete questa grandissima offerta perché a tempo limitato vi lascio sotto in descrizione il sito per accedere a Pumpling e con il codice sconto all'ora del tè riceverete un paio di calze o calzini in omaggio sul vostro ordine la cosa incredibile è che non ci stupirà dopo la vicenda del Burning Sun anche perché nei commenti molti di voi hanno scritto hanno diciamo approfondito anche la questione della cultura coreana relativa alle donne e alla misoginia molto diffusa infatti all'inizio i giornalisti che hanno pubblicato un articolo un'indagine fatta da loro su questa vicenda non ha creato molto scalpore nella società cioè la vicenda era stata inizialmente catalogata come pornografia ma la pornografia la guardano tutti il problema non è che quella non era pornografia cioè il risultato finale era pornografia e anche pedopornografia ma il problema è che non era consensuale cioè era fatto sotto ricatto ma c'è voluta tanta insistenza da parte dei giornali e da parte poi del fenomeno di cui si parlava su Twitter perché molte donne che avevano letto l'articolo hanno iniziato a viralizzare questa vicenda una volta che la vicenda si è viralizzata allora le tv mainstream hanno deciso di parlarne altrimenti inizialmente c'è stata proprio reticenza da parte dei sistemi di comunicazione per questa vicenda perché c'è uno si va bell'ennesimo caso di pornografia chi vuoi che lo guardi quindi insomma c'è purtroppo anche qui un'altra conseguenza di quella che è la società coreana ancora abbastanza misogina ora partiamo dall'inizio da dove è partita quest'indagine perché come dicevo nella intro sono serviti dei gruppi di utenti online più i giornalisti più poi la polizia per riuscire a scovare questi criminali partiamo dal team flame questo team flame siamo nel 2019 questo team flame è composto da due studentesse una delle superiori e una universitaria che vogliono fare nella vita le giornaliste e quindi avevano deciso di creare appunto questo loro sito online questa piattaforma in cui facevano delle inchieste hanno così iniziato a sentir parlare di questi gruppi telegram e hanno deciso di indagare hanno cominciato pensate dalle ricerche google dopo 15 minuti di ricerca con termini tipo spycam condivisione pubblica e cose del genere dopo neanche 15 minuti di ricerca hanno trovato il primo sito che pubblicizzava questi gruppi telegram infatti hanno trovato il sito di questo watchman questo utente che si faceva chiamare watchman che su questa pagina web aveva diversi link che poi rimandavano a telegram non l'ho detto perché penso che lo conosciate ma telegram è un'app di messaggistica come whatsapp con la differenza che non devi necessariamente mettere il tuo numero di telefono quindi puoi essere anche un utente anonimo che cosa succede? che appunto c'erano questi gruppi chiamatele nroom quindi c'era che ne so la room numero 1 la room numero 2 e c'erano tutti i dettagli ad esempio nella room numero 1 trovi questa ragazza con questo seno che si comporta in questo modo c'erano dettagli veramente agghiaccianti quindi tu per entrare poi in questi gruppi dovevi pagare attraverso delle criptovalute perché chiaramente le criptovalute sono valute che possono essere non rintracciabili quindi non è che paghi col tuo conto in banca in sostanza quindi una volta pagato l'accesso a questi chat che avevano un costo differente in base al contenuto entravi e avevi l'accesso a queste foto della schiava del capogruppo cioè c'era il fondatore di questo gruppo Telegram che aveva le sue schiave quindi appunto queste ragazze ricattate come vi dicevo all'inizio venivano poi queste foto condivise in questa chat pagante loro sono entrate nella chat di Telegram gestite da un utente chiamato GodGod e vediamo un po' come riusciva questo GodGod a avere le informazioni per poi ricattare le ragazze allora lui trovava dei numeri delle ragazze o delle chat insomma sul profilo Facebook o quello che sia o Toccao Talk eccetera mandava loro un link dicendo guarda ma questa sei tu ho trovato queste tue foto pubbliche online quindi la ragazza in questione la maggior parte minorenni studentesse del liceo delle medie cliccavano sul link e una volta cliccato sul link GodGod aveva il diretto accesso a tutte le informazioni del loro telefono quindi appunto sia dove abitavano carte di credito documenti di identità tutte le loro informazioni nome, cognome, indirizzo di casa eccetera una volta che appunto c'era stato l'aggancio all'interno delle informazioni del telefono GodGod scriveva loro tu sei tizia X abiti in questa via in questa città se non fai quello che ti dico mando tutte queste informazioni a persone poco raccomandabili che ti verranno a cercare perché sapranno dove abiti e ti faranno del male quindi la ragazza presa diciamo da uno stato di paura rispondeva dicendo che cosa devo fare lasciami stare eccetera quindi lui chiedeva a loro iniziava mandami una tua foto nuda e non farò e ti prometto che la cosa finirà qui e non succederà nulla quindi la ragazza in questione manda la foto nuda in quel momento GodGod diceva loro ok se non fai adesso quello che ti dico questa foto la mando ai tuoi genitori e tutta la tua scuola inizierà la tua vergogna pubblica quindi la ragazza finiva sotto ricatto quindi GodGod continuava a dare ordini appunto della serie come vi dicevo prima vai in questo bagno pubblico preciso e fatti un video mentre lecchi il pavimento prendi un coltello e inciditi la parola schiava sul braccio scrivi post-it per tutta la stanza con scritto schiava di GodGod varie altre parolacce che ora qui non starò a dire e fatti una foto nuda agoni post-it dietro insomma iniziava questo processo questo ricatto costante e le ragazze diventavano delle vere e proprie schiave tenute sotto ricatto quindi il team Flame fa questo articolo sul loro giornale online su quanto avevano scoperto e continuano a monitorare questi gruppi qui invece introduciamo la seconda indagine che poi diciamo dalla quale poi è scaturito tutto perché due giornalisti di una rivista molto importante nazionale chiamata hanno iniziato a ricevere delle segnalazioni via mail essendo giornalisti da alcuni utenti che parlavano proprio di questi gruppi Telegram quindi che cosa è successo che hanno trovato anche l'articolo del team Flame su Google parlava proprio di questa cosa quindi questi giornalisti decidono di approfondire la questione si viene a sapere che questi giornalisti stavano indagando proprio sulla questione pensate che sono stati ricattati all'interno di questi gruppi Telegram le immagini del giornalista diciamo del principale del capo di questa inchiesta viene condivisa all'interno dei gruppi Telegram con addirittura le foto della moglie e dei figli e con annunci del tipo chi riesce a trovare altre foto o il numero di telefono della moglie avrà per sé una schiava personale a cui far fare quello che vuole quindi insomma era un modo per mettere paura a questi giornalisti e cercare di fermarli di non farli andare avanti nell'indagine questi giornalisti determinati a scoprire la situazione decidono di andare avanti e ad un certo punto la svolta avviene quando vengono contattati per email da un certo Joker questo Joker dice loro di essere un assiduo frequentatore di questi gruppi Telegram che è disposto a collaborare con loro per portare alla luce tutta la situazione quindi si danno un luogo d'incontro per la precisione a Daegu alla stazione di Banwoldang ovviamente i giornalisti inizialmente sono un po' spaventati perché sono un uomo e una donna e quindi la donna la lasciano un attimo in disparte l'uomo si veste in maniera aveva detto appunto questo Joker metterò una giocca nera invece se ne è messa una grigia perché voleva capire se questo perché poteva essere una trappola poteva essere una trappola in cui magari questi pazzi dei gruppi Telegram poi andavano in massa e li pestavano invece vedono appunto questo ragazzo Joker dice io indosserò un piumino bianco quindi vedono questo ragazzo col piumino bianco mingerlino piccolino che non sembrava un criminale quindi si avvicinano e vanno a prendere un caffè perché aveva un animo molto mite avevano capito che non fosse un criminale quindi in quel momento Joker dice io in realtà non sono un frequentatore assiduo nel senso che io pago per vedere umiliate le donne ma in realtà io sto cercando di aiutare una mia amica finita sotto ricatto questa sua amica questa sua amica erano stati rubati i dati ed era finito in questo sistema di ricatto costante aveva chiesto aiuto a lui che un pochino riusciva diciamo a navigare online quindi questo Joker per aiutare la sua amica è entrato dentro questi gruppi per monitorare la situazione e questo Joker infatti poi diventa uno degli informatori di questa indagine ma questo Joker dà un'altra informazione perché lui non era entrato nella chat nelle chat nelle n room di questo god god come aveva scoperto il team flames ma di un altro soggetto che si faceva chiamare Baxa cioè il dottore quindi questa sua amica era stata agganciata con una proposta di lavoro perché questo Baxa cercava donne e ragazzine magari in difficoltà economiche che volevano farsi qualche soldo in più e faceva finta di essere un intermediario tra loro e delle agenzie o di modelle o comunque di aziende per altri tipi di lavori dice io sono un intermediario ti aiuto io a cercare lavoro aggiungimi su Telegram in Corea Telegram non è molto utilizzato quindi non non sapevano bene come funzionava anche il fatto dell'anonimato eccetera eccetera si fidano e quindi scaricano Telegram aggiungono la chat cioè aprono la chat con questo Baxa con questo dottore e iniziano a parlare con lui questo Baxa dice loro ti aiuto io ho un amico in un'azienda che sta effettivamente cercando una ragazza ad esempio mandami il tuo curriculum il tuo documento di identità e i tuoi dati bancari per un bonifico così iniziamo le pratiche per poi farti fare un colloquio quindi queste ragazze mandavano a questo Baxa tutto quanto e alla fine Baxa faceva come God God cioè io so dove abiti io so chi sei se non fai quello che ti dico mando queste informazioni a gente pericolosa che ti verrà a cercare e ti farà del male quindi devi fare quello che ti dico ad alcune ragazze a cui era stato promesso di fare le modelle erano state fatte fare delle foto un po' succinte non porno però magari in posizioni un po' più così quindi anche lì mando questa foto a tutti i tuoi contatti così avrai la vergogna pubblica eccetera eccetera e quindi anche questo Baxa iniziava il ricatto e secondo questo Joker Baxa era definito il peggiore perché aveva tantissime vittime donne giovani fino appunto a ragazzine delle medie esattamente come God God e aveva diversi gruppi diverse end room con prezzi diversi in base a quello che volevi vedere quindi c'era la end room con l'abbonamento base fino a salire e in sostanza quindi questo Joker fornisce a questi giornalisti delle informazioni essenziali da cui partire inoltre questo Joker racconta che questo Baxa metteva addirittura il watermark sulle sue foto e i video che cos'è il watermark è una scritta per la protezione del copyright come se sul mio video adesso vedeste in mezzo allo schermo l'ora del tè in modo che se qualcuno vuole prenderlo rimane comunque la scritta e quindi il video è originale in sostanza infatti si chiamavano ad esempio schiave di Baxa come watermark oppure vittime di Baxa oppure semplicemente Baxa e una cosa che ho dimenticato di dire quando a un certo punto queste ragazze magari stanche si rifiutavano di andare avanti il dottore che aveva una chat privata con la vittima e poi condivideva le foto nel gruppo pagante quando la ragazza a un certo punto si rifiutava Baxa invitava gli utenti di queste end room di queste chat dentro la conversazione privata con la vittima e tutti quanti iniziavano a insultarla e minacciarla quindi per metterle ancora più pressione ancora più paura per far vedere che erano in tanti in realtà agghiacciante quindi a un certo punto viste le scoperte grazie a Joker i giornalisti di The Antio Re decidono di pubblicare l'articolo pensando che questa vicenda lo pubblicano in prima pagina pensando che questa vicenda avrebbe fatto tanto scalpore perché come vi dicevo prima non si tratta di pornografia si tratta di pornografia senza consenso cioè il risultato finale è pornografia ma le intenzioni sono fatte sotto ricatto quindi doveva essere una cosa grave e invece non fa alcuno scalpore cioè il caso viene pubblicato su quel giornale punto cioè non ne parla più nessuno il giorno dopo già è dimenticato al punto che dentro queste chat telegram iniziano a burlarsi dei giornalisti cioè della serie speriamo che The Antio Re scriva un articolo anche sulla mia chat così faccio un po' di pubblicità perché molta gente ha iniziato scrivendo e sì io sono entrato dopo che ho visto l'articolo perché appunto mi piace questo servizio quindi anche proprio sveffeggiando l'indagine e lo stesso Baxa manda la foto di una ragazza di una delle sue schiave con il watermark la prima vittima di The Antio Re cioè come una sorta di ricatto della serie se continuate con questa vicenda ci saranno sempre più vittime quindi la situazione diventa molto pesante cosa succede a questo punto che i due giornalisti decidono di contattare il team Flames di quelle due ragazze che sono rimaste anonime chiaramente per paura per cercare di fare un'indagine con di congiunta per cercare di mettere insieme le varie informazioni riescono a trovare un utente chiamato Rabbit che era entrato da poco dentro la chat room di God God quindi dell'altro non di Baxa ne abbiamo due e la De Anghiore con Baxa e De Flames con God God quindi nella chat monitorata dalle De Flames con appunto a capo God God entra questo utente chiamato Rabbit che dopo una settimana diventa già amministratore del gruppo quindi lui gestiva diciamo un pochino la chat con la differenza però rispetto a God God che lui condivideva informazioni anche personali cioè era entrato talmente tanto in confidenza con la chat che non si nascondeva neanche chiaro che non diceva il suo nome però per esempio aveva condiviso il referto della visita per la leva obbligatoria perché in Corea c'è la leva obbligatoria di due anni quindi quando vuoi andare a fare la leva obbligatoria poi devi chiaramente andarti a fare prima delle visite ha pubblicato il referto della sua visita scrivendo oddio la pressione un po' bassa accidenti e raccontava anche che frequentava la Jionnam University poi appunto nel referto c'era scritto che questa visita era stata fatta all'ospedale di Chosun University quindi insomma erano riuscite più o meno a localizzarlo perciò queste team flames facendo finta di essere un utente qualunque entrano un po' in confidenza con lui dicono mi dispiace che hai questi problemi di salute vedrai che ce la farai quando hai la prossima visita e lui dice io ho la prossima visita l'8 agosto quindi chiaramente le flames informano la polizia raccontando tutto e chiaramente vanno all'ospedale dell'8 agosto e lo arrestano però Rabbit era un pesce piccolo era un pesce piccolo non conosceva l'identità di God God era un utente che poi era entrato per parte diciamo era l'amministratore della chat ma non sapeva i volti di nessuno però intanto c'è stato già diciamo il primo arresto di God God non si sapeva granché ma si sapeva che fosse uno studente cioè che comunque era una persona giovane perché certe volte scriveva scusate l'assenza ragazzi ma mia madre ieri mi ha tolto il telefono scusate ma me ne devo andare perché mia madre vuole che vada a dormire quindi era palesemente una persona molto giovane ad un certo punto God God non si sa se magari per l'arresto di Rabbit o comunque per diciamo aveva iniziato un pochino a pubblicare meno ecco e a un certo punto sparisce totalmente dicendo ragazzi chiudo questa chat perché quest'anno ho gli esami finali quindi si era capito che era uno studente delle superiori ho gli esami di fine anno non voglio essere bocciato perciò non ho tempo di stare su telegram quindi me ne vado ciao God God se ne va finisce la sua attività su telegram quindi i giornalisti di De Anghiore insieme alle flames si concentrano sul secondo utente trovato cioè Baxa il dottore quello che viene considerato diciamo nella chat il più terribile al punto che anche la chat stessa comincia a fare delle considerazioni dicendo ma Baxa come fai ad avere tutte queste schiave come le trovi incredibile quasi inquietante perciò lui era una persona che ricattava davvero tantissime tantissime ragazze di cui vi ripeto anche minorenni quindi che succede a questo punto nonostante la vicenda non interessa sia i media mainstream su Twitter si creano diversi hashtag sulla questione le donne cominciano a ricondividere questo articolo quindi l'hashtag va virale e si crea per fortuna un trend e si comincia a parlare di questa notizia quindi una volta che il web è stato diciamo informato ed è una delle notizie di tendenza finalmente i media mainstream decidono di fare dei servizi dedicati e si offrono due programmi Y Story per la SBS e Spotlight per la JTBC e entrambi hanno voluto contattare il dottore cioè sono entrati entrambi sia quelli di Y Story che quelli di Spotlight in queste chatroom scrivendo siamo i giornalisti tal di tali vogliamo parlare con Baxa perché lo scopo della trasmissione era anche quello di avere un contatto diretto con lui e quindi Baxa molto arrogante in maniera molto arrogante scrive in privato a entrambi che hanno due conversazioni diversi perché erano due servizi separati scrive entrambi dicendo mi stavate cercando quindi iniziano a parlare con lui e notano già dei comportamenti molto strani perché lui inizialmente era molto più parlava molto più col gergo giovanile poi quando ha cominciato a parlare con i giornalisti aveva un linguaggio molto più formale dava loro anche del lei e in Corea anche se c'è la differenza ad esempio di un anno cioè io parlo con una persona più un anno più grande di me devi comunque dare del lei si dà sempre del lei alla persona più grande quindi avevano capito che lui fosse un po' più piccolo di loro e aveva degli atteggiamenti strani perché lui aveva cominciato a fare un po' il diciamo il saccente dicendo guardate che questo è solo uno dei miei tanti business io ho anche business di droghe armi faccio un sacco di cose illegali io sono figo bla 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 quindi aveva questo atteggiamento anche un po' infantile aveva detto a Spotlight di vivere in Cambogia gli avevano sequestrato il passaporto e lui era nascosto in Cambogia perché appunto aveva queste sue attività criminali tra cui anche un'agenzia investigativa privata chiamata Mr. Buck mentre a White Story aveva detto di vivere in Cina ma quando poi il giornalista ha iniziato a insistere allora che bello c'è il capodanno cinese questo periodo fammi sapere com'è lui quando si trova poi in difficoltà alla fine diceva diceva la verità diceva insomma si scaldava diceva no non è vero che vivo in Cina vivo in Cambogia quindi in teoria entrambi aveva dato la versione vivo in Cambogia però aveva questo atteggiamento molto infantile perché si arrabbiava quando i giornalisti non credevano a quello che lui diceva quindi era chiaro si era capito che era una persona molto giovane ad un certo punto però che succede Bucks ha ricatta entrambe le trasmissioni dice se voi pubblicate questi episodi su di me io faccio fare alla mia schiava un gesto eclatante cioè se voi il giorno che pubblicherete l'episodio una ragazza una mia schiava salirà sul tetto della SBS e della JTBC e si toglierà la vita quindi era un ricatto bello pesante quindi Wild Story non si lascia spaventare pensa che Bucks che Bucks stia scherzando ma appena pubblicato l'episodio quindi decidono di pubblicare l'episodio appena pubblicato l'episodio sulla chat privata con i giornalisti Bucks manda loro una foto di una ragazza con un cappuccio in testa legata al collo alla maniglia della porta e questa ragazza dichiara mi toglierò la vita sul tetto della SBS quindi iniziano un pochino a tremare ovviamente viene informata la polizia e il tetto della SBS viene monitorato e dice se anche Spotlight pubblicherà l'episodio io non sto scherzando ci sarà una seconda vittima Spotlight pubblica l'episodio e viene condivisa la foto di una ragazza nuda con un braccialetto l'unica cosa che si vede è questo braccialetto rosa che tra poco vedremo sarà fondamentale con scritto io sono la prima vittima di Spotlight facendo riferimento al fatto che anche lei avrebbe compiuto questo gesto eclatante per il momento non era successo nulla al di là delle minacce via foto e video però chiaramente la situazione era molto tesa ovviamente la polizia ha aperto un'indagine ma è diventata diciamo più rilevante dopo la messa in onda dei due media mainstream dei Spotlight e why story perché lo scopo di entrambe le trasmissioni non era quello di parlare con un dottore di creare solo hype o comunque di lo scopo era quello di far sapere a tutto il pubblico di sconvolgere l'opinione pubblica perché chiaramente più l'opinione pubblica era sconvolta aveva paura e più la polizia aveva i fondi per poter portare più agenti nelle indagini quindi per far sì che l'indagine si ingrandisse ancora di più quindi che cosa succede a questo punto che la polizia la Metropolitan Police di Seoul insomma la polizia metropolitana di Seoul analizza la seconda foto quella mandata a Spotlight della ragazza con il braccialetto rosa non si vedeva la faccia però siccome la polizia già stava indagando su Bax aveva questo database pieno di foto comparando le varie foto trovano un'altra foto di una ragazzina con lo stesso braccialetto rosa che Bax aveva inviato nella sua chat nella sua enroom come schiava e dietro questa ragazzina aveva la classica cameretta da bambina insomma da ragazzina piccola e dietro c'erano dei libri nella sua libreria in cui si leggeva non solo il nome della scuola frequentata dalla ragazza ma anche il nome quindi la polizia riesce a rintracciare questa ragazza si appostano sotto casa sua fuori Seoul e aspettano tutta la notte perché avevano magari paura che questa ragazzina potesse uscire di casa in piena notte per fare magari qualcosa di avventato su ordine di Bax quindi piantonano la casa tutta la notte e poi la mattina seguente che non è successo nulla la mattina seguente la polizia decide di entrare in casa di raccontare tutto ai genitori e di parlare con la ragazzina in questione la ragazzina in questione conferma di essere sotto ricatto era molto spaventata e racconta anche alcune cose ad esempio che questo Bax aveva ben tre chat room una da 200.000 won l'altra da 500 e l'altra di un milione di won che era diciamo la chat più esclusiva e la polizia ha stimato che abbia guadagnato più di 100 milioni di won pagati in criptovalute ma con le informazioni di questa ragazza la polizia riesce a risalire alla piattaforma di pagamento che era Best Coin quindi questa Best Coin in questa Best Coin Baxa si faceva pagare dagli utenti che volevano entrare in questi gruppi Telegram con Ethereum Bitcoin e tutte le varie altre criptovalute che ci sono succede che a questo punto quando la polizia scopre la piattaforma gli utenti dei gruppi di Baxa iniziano ad avere paura avevano paura di essere rintracciati cioè avevano trovato la piattaforma con cui avvenivano gli scambi di denaro e quindi avevano paura ma Baxa ha cercato di tranquillizzarli dicendo non vi preoccupate questa informazione è completamente inutile le criptovalute possono essere anonime quindi non vi rintracceranno mai tranquilli non ci prenderanno mai quindi Baxa sembrava anche abbastanza sicuro della situazione che cosa succede a questo punto che la polizia scopre un'altra cosa perché chiaramente Baxa si faceva mandare queste questi soldi in criptovalute su un wallet cos'è un wallet? è un portafogli sostanzialmente online un conto che hai online in cui venivano trasferite tutte queste criptovalute è chiaro che non puoi andare a ritirare tu queste criptovalute in una magari in un bancomat perché risulta sospetto sono tanti soldi e potevano rintracciarti quindi Baxa che cosa faceva per prendere tutti questi soldi? lui mandava le sue schiave sempre che appunto erano sottoricato a ritirare loro questi soldi dal conto dividerli in diversi sacchetti e lasciarli in diversi punti della città esattamente come si fa con lo spaccio cioè ritiri che ne so ritiri 10 li metti in bustine da 2 da 3 eccetera eccetera li metti in diversi punti della città poi qualcuno passerà a ritirarli ma tu intanto non sai chi è non vedi il dottore in faccia non è che glielo andavano a consegnare di persona diciamo sul momento ecco quindi la polizia scopre questo e questo sistema è lo stesso sistema che in Corea si usa non solo appunto per lo spaccio di droga ma anche per le truffe telefoniche perché qualche casualità vuole che qualche mese prima un signore aveva denunciato un signore anziano era stato minacciato perché era stato vittima di una truffa telefonica era stato minacciato quindi era stato mandato a ritirare una busta che si trovava vicino a un condizionatore dietro a un ristorante era una busta di soldi questo signore anziano avrebbe dovuto lasciare la busta di soldi davanti casa sua e poi qualcuno sarebbe passato a prenderli infatti questo signore il tempo di lasciare la busta e di chiudere la porta i soldi già non c'erano più quindi poi lui si è spaventato ha denunciato comunque alla polizia quindi la polizia dice se questo è lo stesso sistema delle truffe telefoniche non è che questo Baxa fa parte anche di qualche truffa telefonica quindi la polizia va a vedere i database e che cosa succede mettono a diversi nickname che Baxa utilizzava per esempio Baxa per ingannare le donne quindi quando diceva sono l'intermediario di lavoro tra te e l'azienda usava il nickname K8goose chito goose quindi sarà K8goose credo comunque utilizzava questo nickname questo nickname è stato messo all'interno del database e si è scoperto che era già presente nei database della polizia per cose legate a droghe e armi infatti sono stati trovati anche due scagnozzi Kim e Lee che in quel momento si trovavano in prigione quindi la polizia va a interrogare Kim e Lee e questi Kim e Lee dicono noi non abbiamo mai conosciuto questo Baxa però lavoravamo per lui eravamo semplicemente degli scagnozzi che andavano a prendere o a sistemare i soldi relativi appunto alle droghe in giro per la città in gergo si chiama buttare i soldi qui dicevano vai a buttare i soldi dietro questo ristorante vai a buttare i soldi dietro questo tombino dentro questo tombino per esempio quindi loro erano degli scagnozzi ma non sapevano l'identità del dottore loro lavoravano appunto per questo K8 Goose che però si faceva chiamare Mr. Buck Mr. Buck come il nome dell'agenzia investigativa che aveva detto di avere ai giornalisti quindi abbiamo a questo punto la polizia ha già più o meno un quadro delle attività di quest'uomo che succede però a questo punto che tra le varie chat di Baxa finalmente riescono a trovare il suo braccio destro un po' come il rabbit era per God God trovano questo Buddha quindi un giorno Baxa aveva detto a Buddha in una di queste chat di aprire un conto in cripto di ritirare i soldi e buttarli da qualche parte stesso sistema che vi dicevo prima questo Buddha era già stato fermato nel 2019 per aver stalkerato una minorenne una liceale utilizzando Telegram con il nome di Buddha quindi nei database della polizia era già presente segnalato questo Buddha quindi questo Buddha viene preso e anche lui dice di non conoscere il dottore lui prendeva cioè questo Baxa lui prendeva solo i soldi una commissione eccetera eccetera per i servizi svolti ma tramite l'interrogatorio a Buddha riescono la polizia riesce a rintracciare i luoghi di scambio dove venivano buttati questi soldi e riescono a rintracciare i luoghi nell'area di Suwon riescono a trovare un posto in cui buttavano i soldi che era un armadietto con dentro l'idrante di un palazzo di un condominio a Suwon questo palazzo chiaramente non era la destinazione finale dei soldi probabilmente questi soldi erano stati lasciati lì qualcuno poi li avrebbe presi li avrebbe portati poi magari al dottore o a un secondo intermediario quindi poi questi soldi avrebbero fatto un grande giro quindi la polizia che cosa fa si apposta davanti questo condominio per un mese analizza le telecamere per capire chi si comportasse in maniera strana e quante persone passavano davanti a questo a questo idrante diciamo questo armadietto con l'idrante dentro e dopo varie ricerche scoprono che è una ragazzina cioè una ragazzina delle superiori quindi iniziano a monitorare questa ragazzina a un certo punto questa ragazzina prende la metro e va lontano rispetto alla sua area quindi la polizia inizia a seguirla inizia a vedere dove lasciava effettivamente i soldi questa ragazzina fino a che un giorno questa ragazzina incontra un ragazzo a cui dà questi soldi quindi automaticamente la polizia smette di seguire questa ragazzina e comincia a seguire questo ragazzo che probabilmente era il secondo intermediario del dottore questi soldi poi lui li avrebbe consegnati ad un'altra persona ma osservando tutti gli spostamenti di questo ragazzo la polizia si rende conto che questo ragazzo in realtà ritirava solo i soldi cioè lui andava in diversi punti incontrava questa ragazzina un'altra tipa un'altra un'altra e ritirava solo i soldi non li stava dando a nessuno quindi probabilmente quello era il dottore era Baksa cioè in realtà Baksa non viveva in Cambogia era un ragazzino della città di Inchion quindi che cosa fa la polizia pedina questo ragazzo questo ragazzino delle superiori nella città di Inchion non potevano entrare direttamente sfondando la porta di casa perché telegram ha una funzionalità che se tu fai log out puoi cancellare tutto quindi magari mentre cercavano di sfondare la porta lui poteva cancellare tutte le prove quindi dovevano arrestarlo nel momento in cui lui fosse distratto hanno iniziato a monitorare tutti i suoi spostamenti anche quando andava a ritirare i soldi per capire se fosse lui perché perché se lui scriveva su telegram ma in realtà nel momento che il dottore Baksa scriveva sul gruppo telegram lui era a ritirare i soldi non potevano essere la stessa persona infatti però casualmente quando Baksa quando questo ragazzino scusate andava a ritirare i soldi Baksa non era attivo su telegram quindi le coincidenze c'erano perciò che cosa succede che un giorno questo ragazzo va con il padre in un parcheggio per imparare ad andare in bicicletta anche se faceva le superiori magari non aveva imparato il padre gli stava insegnando ad andare in bici quando tornano verso casa la polizia blocca tutti e due e arrestano questo ragazzo gli esaminano il telefono e trovano l'account di Baksa quindi era lui il dottore cioè Cho Jubin un ragazzo adolescente delle superiori questo ragazzo viene arrestato e lascia una dichiarazione dicendo grazie per aver fermato un demone che non riuscivo a fermare con questa dichiarazione in realtà lui non sta chiedendo scusa perché lui ha fatto sì come se fosse una sorta di malattia quindi che non era colpa sua quasi per cercare di creare compassione nella gente cioè lui non era assolutamente pentito di tutto quello che aveva fatto e di tutto il dolore causato alle vittime che cosa succede a questo punto perché la vicenda non è finita perché manca God God che nel frattempo era sparito God God era sparito a detta sua appunto perché stava facendo l'esame di fine anno quindi non poteva perdere tempo su Telegram ad un certo punto risbuca risbuca perché cerca di difendersi perché Bax a qualche tempo prima aveva detto che le chat di God God erano di scarsa qualità quindi le immagini delle schiave diciamo di God God erano di scarsa qualità e che Bax era il migliore quindi God God evidentemente un po' risentito da questo attacco è tornato nei gruppi Telegram e qui interviene intervengono dei terzi anzi quarti perché c'è stato il team Flames i giornalisti e la polizia un quarto team perché entra a far parte il team chiamato Red Team che erano un gruppo di hacker anche loro che erano sulle tracce di God God che succede che il Red Team aveva contattato God God facendo finta di essere un utente lo avevano fatto cliccare su un link e gli avevano rubato i dati più che altro avevano rubato la posizione e la connessione dell'indirizzo IP quindi sostanzialmente God God è stato fregato con le sue stesse armi cioè che lui ha cliccato sul link e questi hacker sono riusciti a trovare l'indirizzo IP l'indirizzo IP sarebbe appunto la connessione diciamo il posto da cui ti connetti come se fosse una via in cui ti connetti a un codice che dice esattamente la posizione in cui sei nel momento in cui sei connesso quindi riescono a trovare diverse connessioni perché lui utilizzava dei wifi pubblici cioè lui non si connetteva dal suo wifi di casa God God si connetteva dai bar ristoranti però erano tutti nella stessa zona di Anseong quindi loro che cosa fanno hanno questi 4-5 punti di wifi pubblici da cui si connetteva quindi nella mappa mettono questi wifi con l'onda dove cioè dove fino a dove arriva il wifi quindi immaginatevi quattro cerchi la prima area la seconda la terza e la quarta e loro si sono concentrati nell'area che tutti e quattro i cerchi delle varie aree esaminate si intersecavano quindi questi 4 cerchi si incontravano tutti in un'area quindi lui vicino casa aveva da lontano riusciva a prendere il wifi del bar tizio il wifi del centro commerciale tizio tutti nella stessa area quindi l'area si restringe a un insieme di case tra questi insieme di case riescono a trovare quella che probabilmente è la sua casa perché il padre di questo god god faceva il rigattiere quindi aveva anche diversi telefoni vecchi diversi rottami diciamo nella sua azienda appunto tra cui questi telefoni vecchi la polizia va nell'azienda di quest'uomo sequestra i telefoni sequestra quei telefoni che erano buttati lì li aprono e vedono che effettivamente potrebbero essere di god god non ci sono i dati ovviamente perché god god usava un telefono per un periodo lo cancellava e lo buttava nella parte diciamo della discarica del padre ma una volta god god aveva condiviso la registrazione schermo del suo telefono le app erano simili infatti c'erano due account differenti di twitter poi c'erano diverse chat di incontri per le ragazze insomma c'erano altri telefoni quindi capiscono che quelli sono cioè praticamente la registrazione dello schermo che aveva inviato god god una volta nella chat di telegram e le app presenti su questi telefoni erano le stesse quindi quelli erano telefoni che probabilmente god god aveva utilizzato god god che faceva poi salvava tutte le foto su delle schedine sd e le mandava appunto ai gruppi telegram poi quando cambiava telefono queste sd venivano distrutte ma le immagini venivano salvate su un server mega e questo server mega che mega è tipo il cloud della apple cioè sono dei diciamo appunto delle piattaforme in cui salvare appunto dei documenti delle foto scusate le poche nozioni tecniche comunque tipo un cloud per renderci conto quindi trovano anche questo server mega e arrestano appunto il figlio di questo rigattiere che alla fine confessa di essere god god che era un altro ragazzo giovane mon jungkook quindi anche lui un altro ragazzo giovane ovviamente questo fenomeno non si è fermato cioè probabilmente c'è ancora ci sono ancora queste chat ma intanto la polizia ha arrestato diciamo due dei principali tra cui appunto il dottore Baxa e questo god god la cosa che mi ha sconvolto è stata proprio il fatto che fossero dei ragazzini vabbè è chiaro che più sei giovane più sai smanettare col computer questo è ovvio però se ci pensate è grave pensare che appunto due ragazzi abbiano così poco rispetto per le donne al punto da renderle schiave tutto questo per me era questione di denaro perché chiaramente guadagnavano tanto da queste chat per non parlare che anche la gente che ci andava cioè nel senso che pagava per queste chat quindi insomma la notizia dopo appunto ha fatto abbastanza scalpore però comunque il fenomeno non si è arrestato non si è fermato fatemi sapere tra questa vicenda e quella del Burning Sun quale vi ha sconvolto di più a me tutte e due ragazzi cioè in realtà noi trattiamo sempre vicende macabre però non so perché cioè quelle coreane mi sembrano quasi portate all'eccesso comunque se vi piace cioè vi piace vi ripeto sempre relativamente se volete informazioni su altri casi coreani scrivetemelo sotto nei commenti perché comunque sono interessanti vi dico al di là della tragedia sono interessanti e mi piace indagare su queste cose quindi se piacciono anche a voi anche i casi coreani per non parlare sempre e solo di Stati Uniti fatemelo sapere qui sotto nei commenti spero di non avervi sconvolto troppo con questo video noi ci vediamo martedì prossimo quindi vi auguro un buon weekend ciao ciao